Sì, ecco, questo è il secondo dibattito che abbiamo proposto come Collettivo Resistenze Ambientali sulla questione ambientale. Abbiamo concepito questa serie di dibattiti e speriamo che molti altri se ne aggiungano in base a un'esperienza concreta, materiale che stiamo facendo qui in Veneto contro i FAS, cioè contro l'avvenenamento delle acque. E' una cosa che ci ha dato motivo di allargare l'orizzonte del ragionamento a quella che oggi è la contraddizione principale a nostro avviso, e cioè che è quella del rapporto con l'ambiente, è il rapporto tra uomo e ambiente, tra modo di produzione capitalistico e ambiente, cioè la questione ambientale, detto in sintesi. Ci ha dato modo anche di verificare nella pratica che questo elemento ambientale, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni e quella dell'acqua in primis, è davvero una potenzialità, è una possibilità ricompositiva che va al di là del localismo delle lotte. A volte, sulle questioni ambientali, spesso, le lotte sono localizzate e sono, diciamo, specifiche, che vanno di territorio in territorio su tematiche differenti. L'acqua, siccome scorre ovunque e riguarda qui in Veneto una popolazione che si aggira tra gli 800 mila e un milione di abitanti, circa, cioè è una cosa che riguarda tutti. Per cui, evidentemente, e si parla non solo dell'acqua potabile che beviamo dai rubinetti, ovviamente, ma anche della catena alimentare. E quindi dà la possibilità di creare un forte elemento ricompositivo tra tutti coloro, tra tutti i cittadini che ne sono interessati. Ecco, da questo elemento, come sempre, è nelle lotte che emerge poi una pratica, una riflessione, una teoria. Avevo pensato di concepire questa serie di dibattiti, tra cui quello di questa sera, su alcuni punti e alcune considerazioni. Il primo elemento, il rapporto che c'è tra le trasformazioni del mondo del lavoro, le trasformazioni e le tendenze dell'accumulazione capitalistica e la questione ambientale. Questo è l'intreccio di elementi organici che fanno sì che la questione vada presa complessivamente. E qui subito noi possiamo individuare due fetici, sostanzialmente, da sottoporre a critica. Uno è il feticio del lavoro, l'altro è il feticio dello sviluppo. Sul feticio del lavoro, la nostra tradizione, che noi offriamo ovviamente a tutti, deriva da un mass critico, soprattutto sotto il taglio dell'operaismo italiano, che è stata una corrente molto importante egemonica per quanto riguarda una certa cultura, se vogliamo, antagonista o conflittuale nel nostro paese. Su questo dobbiamo anche dire che noi la questione operaistica l'abbiamo sottoposta a una critica, sostanzialmente, per quanto riguarda il vecchio operaismo. E dico subito perché il problema è assolutamente attinente a quello che stiamo dicendo. Perché comunque anche il vecchio operaismo, e ci riferiamo a Mario Tronti, operaio capitale, che appunto è stato l'elemento fondante dell'operaismo italiano, con tutte anche le forme organizzative da potere operaio fino ad arrivare anche i giorni nostri, sostanzialmente, con un filone di continuità e discontinuità molto importante. Comunque c'era un concetto di rapporto in quel testo tra lotte e sviluppo, che sapeva ancora, però, fortemente, di un certo determinismo, di una certa linearità. Ovvero, le lotte operaie spingono in avanti lo sviluppo del capitale fino a un punto di massima concentrazione del rapporto, un punto alto, cioè della contraddizione, da cui, in qualche maniera, sarebbero rovesciati i rapporti di forza perché la classe operaia, fattasi potere operaio, sarebbe riuscita a appropriarsi del comando e del governo sul modo di produzione. Chiaro che è uno schema lineare, è ancora molto deterministico, molto deterministico. Va dato atto a Mario Tronti, comunque, di aver operato una sorta di rivoluzione copernicana, nel senso che non è più la classe che dipende dal capitale, ma al contrario è lo sviluppo del capitale che dipende dalle lotte di classe. D'altra parte, anche questa non è proprio una novità, perché Marx diceva, in alcuni suoi pezzi più importanti, tipo il libro sesto, il capitolo primo, il capitolo di netto del capitale, diceva che la macchina corre laddove c'è lo sciopero. Per cui non è che sia una novità assoluta, però il trontismo, in qualche maniera, l'ha, come dire, fatta teoria, anche importante, cioè, rispetto alla soggettività. Questa cosa, naturalmente, va oggi rivista, da questo punto di vista, perché non si è verificato questo, il capitalismo non si è erotto nei punti più alti e non c'è, ovviamente, neppure più quella determinata composizione di classe che era l'operaio massa della grande fabbrica fordista-tenorista, che era la base, la base materiale, sostanziale, di questo tipo di visione. Devo dire che successivamente il filone operaista ha fatto anche dei passaggi in avanti interessanti, ne cito solo uno, nel 77, 78, Antonio Negri capisce, coglie questo aspetto e parla di operaio sociale. Quindi c'è un elemento, un salto, rispetto a una composizione di classe diversa, proprio perché iniziavano i processi di destrutturazione della grande fabbrica fordista e di quella composizione di classe. Nell'operaio sociale, noi cominciamo, che è qualcosa di rimasto come geniale intuizione, ma non si è sviluppato, e forse solo oggi noi ne colliamo fino in fondo la portata, c'erano già alcuni elementi che sottoponevano, cominciavano a sottoporre una critica radicale al determinismo e alla linearità del processo del rapporto lotte-sviluppo oppure, se vogliamo, del rapporto operai, del rapporto, la dialettica operai-capitale. Già iniziava a rompersi con la fine, con l'esaurimento, come dire, della forza propulsiva all'operaio massa, con la ristrutturazione capitalistica, con l'affacciarsi dell'ideologia neoliberista e ordo-liberista in tutta la sua portata, quindi la distruzione di quella composizione di classe, della fabbrica, dello Stato sociale, per arrivare ai giorni nostri. Concludo questa parentesi, diciamo, genealogica e storica del nostro percorso teorico-politico. Naturalmente ci sono dei passaggi importanti, il post-operaismo, non si parliamo più di operaismo, il post-operaismo che quindi si lega molto, comincia a intravedere che la questione ecologico-ambientale è naturalmente, sta diventando una questione strategica, centrale, non più un qualcosa di secondario rispetto a quella è la lotta di classe sul salario. Ecco che arriviamo al primo fetticcio, il lavoro salariato, il lavorismo, l'ideologia del lavoro, sostanzialmente. E su questo, che è assolutamente fondamentale per capire perché noi oggi arriviamo a definire la questione ecologico-ambientale come elemento centrale, ma non solo da un punto di vista, diciamo, così generale-culturale, culturalista, ma proprio dal punto di vista delle lotte tra le classi, diventa centrale da questo punto di vista. Quindi c'è un'evoluzione importante che comincia a vedere il mondo come un unicum, dove lavoro, ambiente, capitale, modo di produzione sono organicamente intrecciati tra di loro. E quindi il problema vero diventa la riproduzione della vita. Cioè il problema non è più solo il problema di produrre merci o il concetto di uno sviluppo, di un progresso illimitato, di un sviluppo illimitato delle forze produttive, ma diventa direttamente il problema della riproduzione della vita in quanto vita, della riproduzione ricca della vita sociale. E quindi la critica al lavorismo è sicuramente un perno anche dell'approccio, come dire, gortiano dell'ecologia di André Gorz, un testo fondamentale, Ecologia e Libertà del 77, che pone direttamente e con una grande immediatezza la questione del rapporto che c'è tra le nuove forme dell'accumulazione capitalistica, l'ambiente e la riproduzione della vita, ovvero la biopolitica. E noi qua, diciamo, nel nostro territorio, il Veneto, nuova terra dei fuochi, questo ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, cosa significa questo tipo di processo. E l'altro elemento feticio è il discorso sullo sviluppo illimitato delle forze produttive, sull'idea di progresso, di eredità positivistica, che ha in sé un determinismo, ovviamente funzionale alla riproduzione di capitale, cioè uno sviluppo illimitato senza fine, senza limiti e senza la possibilità che questo possa essere bloccato, fermato, no? In nome dell'ideologia del lavoro, del lavorismo, di matrice protestante calvinista sostanzialmente, e che però è alla base del capitalismo. Quindi, questa cosa è pazzesca, perché se noi pensiamo che oggi l'automazione, come già aveva previsto Mars, cioè l'introduzione dell'innovazione tecnologica all'interno dei processi produttivi, rende sempre meno necessario il lavoro, e quindi in teoria, secondo il buon senso logico, dice, una quantità enorme, una moltitudine di uomini e donne, hanno questa possibilità e potenzialità di liberarsi non dal lavoro inestratto, ma dal lavoro salariato, cioè dalla schiavitù del lavoro salariato, no? E quindi, dentro a questo processo, diciamo, paradossale, in cui c'è sempre meno bisogno e necessità di un lavoro per quanto riguarda la produzione che viene studiata dalle macchine, chiaramente, noi non assistiamo a un processo di liberazione dell'umanità, rispetto a quella che potrebbe essere una nuova comunità umana, e in cui il rapporto di cura delle relazioni sociali, il rapporto con la natura, può essere curato, secondo i concetti più profondi della cura, curato anche applicando la scienza, anche applicando l'intelligenza sociale generale. Si può ricostruire una comunità libera, piena di creatività e di potenza, no, non si chiama più lavoro, si chiama creatività per creare una comunità di uomini liberi, uguali e felici. C'è questa possibilità, questa potenzialità. Rispetto a questa, tra virgolette, utopia concreta, perché non è un'utopia in astratto, ha delle basi materiali, si può affondare, abbiamo in negativo l'opposto, abbiamo una moltitudine di uomini e donne, di masse enorme di uomini e uomini, che sono costretti a una condizione neanche più salariale, di schiavitù salariale, che perlomeno era organizzata e ordinata all'interno di un certo tipo di ordinamento strutturato, con dei diritti garantiti da un welfare, eccetera. Ma abbiamo proprio l'asservimento, una proliferare di lavori servili, anche formalmente servili. Cioè, quindi qui noi abbiamo un passaggio in cui si ritorna, sostanzialmente per analogia, non è la stessa cosa, all'accumulazione primitiva originaria, in cui il fondamento e lo sviluppo del capitalismo, già nell'Inghilterra di Elisabetta, oppure dopo, la prima rivoluzione industriale, viene fondato su degli elementi molto, delle condizioni molto immediate, ovvero, l'espropriazione delle terre e dei beni comuni, ovvero le privatizzazioni, quelle che noi chiamiamo privatizzazioni, la colonizzazione, cioè l'enorme quantità di ricchezza che poi si traduce in capitale, in investimento di forze al lavoro, e strutture lavorative, fabbriche, eccetera, viene anche dall'esproprio delle ricchezze, delle risorse, delle materie prime, di una quantità enorme di popoli nel mondo. E quindi la colonizzazione e l'asservimento, il lavoro salariato e l'accumulazione originaria sono coesistenti. Ecco, quindi noi torniamo oggi a questo elemento in forma, se vogliamo, moltiplicata per mille, nel senso che abbiamo una nuova accumulazione originaria basata sul capitale estrativo, ovvero sulla messa in valore della natura dal punto di vista del capitale, sulla terra a basso prezzo, a basso costo, che però rende un'enorme quantità di profitti, sostanzialmente, basti pensare alla rendita immobiliare, alla rendita finanziaria, alla rendita immobiliare, a quanto un aumento di valore della terra viene fatto rispetto alla rendita differenziale, praticamente, no? Sulle terre che è più pregiata o meno pregiata, al costo zero per i capitalisti. E lo vediamo con il FAS, lo vediamo con la Coca-Cola, qui in Veneto, lo vediamo da tutte le parti. Questo è l'elemento del capitale fondamentale. Ecco, rispetto a questo, allora, qui chiudo, diciamo, rispetto a questa questione, rispetto al filone nostro, che è sicuramente legato al marxismo critico, al Mars più attuale, se vogliamo, no? Che sicuramente c'è, ed è importante. Ricordiamo solo che negli scritti giovanili c'era una critica feroce all'alienazione, alla mercificazione, all'alienazione totale, alla mercificazione, nonché appunto al rapporto uomo-natura, cioè contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma anche contro lo sfruttamento dell'uomo sulla natura. Quindi la relazione organica tra i due elementi, no? Ricambio organico tra uomo e natura. Riprendiamo questo filone per sostanziare la nostra prassi, cioè che è quella comunque sempre del conflitto, dell'antagonismo, perché è ovvio che qui siamo di fronte a un antagonismo radicale, cioè qui non è riformabile attraverso un miglioramento dei salari. Non è riformabile questa cosa. C'è una radicalità nella questione ambientale che deve, e una possibilità anche di ricomposizione delle forze, rispetto alla frammentazione del precariato, del lavoro, dei mille rivoli del lavoro sociale precario, una ricomposizione che altrimenti non sarebbe possibile con la mera lotta salariale. Perché qui abbiamo popolazioni intere, un senso comune, peraltro che si sta affermando e si sta sviluppando. Su questa base dobbiamo appunto ripartire fondando, rafforzando sul piano teorico e soprattutto sul piano delle iniziative anche materiali e pratiche. Grazie.